Mi chiamo Sonia e ho 21 anni. Ho perso i miei genitori quando avevo 16 anni. Sono cresciuta con mia zia e mia sorella più piccola. Un'amica di zia mi ha proposto un lavoro in Libia da parrucchiera e sono partita. Ma il lavoro che mi aspettava era un altro. In Libia questa signora voleva costringermi a prostituirmi, ma io non voleva e sono scappata. Dopo giorni in mare, a 17 anni, sono arrivata a Palermo. Due uomini del mio paese mi avevano promesso un lavoro a Bologna, sempre come parrucchiera, per pagare i debiti del mio viaggio costato 40.000 euro. Ma arrivare lì, ho scoperto la verità. Gli uomini del mio paese mi avevano ingannata. Il mio lavoro era fare una prostituta. Io non volevo, piangevo, mi ribellavo. Ma più mi rifluttavo, più la madame mi picchiava con bastoni e cintura. Ogni notte ero in strada dalle 22 alle 5 con il nome di Jennifer per pagare il mio debito. Ogni fine settimana davo i soldi alla mia madame. E se davo meno, di 500 euro continuavo a picchiarmi. Un giorno, con la scusa che non mi sentivo bene, sono scappata. Sono arrivata in Abruzzo, ho passato tante notte al freddo in strada. Ho conosciuto gli operatori che mi aiutano tanto. Mi hanno accompagnata all'ospedale quando ho dovuto abortire. Mi hanno aiutata a frequentare un corso di cucina, a trovare lavoro nel ristorante della zona e a fare i documenti per restare in Italia. Il mio sogno è trovare un lavoro stabile e portare mia sorellina in Italia con me.